Storia della razza. Fino alla metà del XIX secolo, gli ormai estinti Old English Terrier e Old English Bulldogs venivano allevati insieme per produrre un cane, che combinasse la giocosità di un terrier con la forza e l'atletismo di un bulldog. Questo tipo di cane, allevato nelle isole britanniche, divenne noto come Bulldog Terrier. Questi cani arrivarono negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, dove divennero i diretti antenati dell'American Pit Bull Terrier. Nel Regno Unito, i Bull Terrier venivano usati in sport sanguinosi come l'adescamento di tori e orsi. Questi sport sanguinosi furono ufficialmente eliminati nel 1835 quando il Regno Unito introdusse le leggi sul benessere degli animali. Dal momento che i combattimenti tra cani, sono più economici da organizzare e molto più facili da nascondere dalla legge rispetto a tori o orsi, i sostenitori dello sport sanguinario hanno invece messo i loro cani l'uno contro l'altro. Il combattimento tra cani, era usato sia come sport ruento, spesso associato al gioco d'azzardo, sia come modo per continuare a testare la qualità della razza. Decenni dopo, i combattimenti tra cani si svolgevano in segreto in piccole aree della Gran Bretagna. Questi cani arrivarono in America dal 1845 al 1860 circa, dove la pratica del combattimento tra cani era continua. Il 10 febbraio 1898, la razza fu riconosciuta dall'United Kennel Club con il nome di American Pit Bull Terrier. All'inizio del XX secolo, l'UKC iniziò a registrare il nome della razza con la parola Pit tra parentesi per facilitare il riconoscimento pubblico come American Pit Bull Terrier. Tuttavia, questo non durò a lungo e tutto tornò alla sua forma precedente. All'inizio del XX secolo, i Pit Bull venivano usati in America come cani da trappola per mucche e maiali semiselvatici, per cacciare maiali e inseguire il bestiame, e come compagni domestici. Ma il combattimento tra cani è rimasto l'uso principale della razza fino al 1976, quando il combattimento è stato vietato in tutti gli stati. I Pit Bull Terrier hanno avuto successo nel ruolo di cani da compagnia, cani da lavoro, cani sportivi, poliziotti e persino cani da terapia. I Pit Bull Terrier costituiscono, anche la maggioranza utilizzata per il combattimento illegale di cani in America. Inoltre, le forze dell'ordine segnalano che questi cani vengono utilizzati per altri scopi sgradevoli, come la sorveglianza di operazioni illegali di droga e l'uso contro la polizia. Nel tentativo di contrastare la reputazione di combattimento dei cani di tipo Pit Bull, nel 1996 la Societe Forte Prevention of Cruelty Two Animals di San Francisco ha ribatezzato Pit Bull Terrier San Francis Terrier nella speranza che le persone fossero più propense ad adottarli. I 60 cani testati sul temperamento, sono stati adottati fino a quando il programma è stato interrotto dopo che diversi Pit Bull recentemente adottati hanno ucciso i gatti. Il Centro per la Cura e il Controllo degli Animali di New York ha provato un approccio simile nel 2004, ribatezzando i suoi Pit Bull New Yorkers, ma ha abbandonato l'idea di fronte alla schiacciante protesta pubblica. L'American Pit Bull Terrier è una razza canina riconosciuta dall'United Kennel Club e dall'American Kennel Association, ma non dall'AKC Kennel Club. È un cane intelligente, a pelo corto, di media taglia, robusto i cui primi antenati provenivano dalle isole britanniche. Rispetto allo staforcire bull terrier inglese, l'American Pit Bull Terrier è più grande di 15 al 20 centimetri di altezza e 11 al 16 chilogrammi di peso. I Pit Bull Terrier americani sono di dimensioni variabili. I maschi sono generalmente alti circa 45 al 53 centimetri e pesano circa 15 al 27 chilogrammi, mentre le femmine sono alte circa 43 al 50 centimetri e pesano 13 al 22 chilogrammi. Nonostante il termine colloquiale Pit Bull per riferirsi a un'intera categoria di cani e l'uso legittimo del termine per includere diverse razze nella legge, alcuni allevatori professionisti conservatori di Pit Bull Terrier, così come alcuni esperti e sostenitori, sostengono che il Pit Bull Terrier americano è storicamente l'unico vero Pit Bull e l'unica razza che dovrebbe essere chiamata tale. 12 paesi in Europa, così come Australia, Canada, Stati Uniti, Ecuador, Malesia, Nuova Zelanda, Porto Rico, Singapore e Venezuela hanno emanato una qualche forma di legislazione sui cani Pit Bull, incluso il Pit Bull americano. Che vanno da divieti assoluti a restrizioni e condizioni di proprietà. Lo stato del nuovo Galles del Sud in Australia impone restrizioni di razza, inclusa la sterilizzazione obbligatoria. La razza è vietata nel Regno Unito, nell'Ontario, in Canada e in molti luoghi degli Stati Uniti. Aspetto? I Pit Bull sono divisi in due tipi principali. Terrier e Bulldog, essi verificano, anche questi due tipi misti. Un Pit Bull americano dovrebbe essere di taglia media, pelo corto e struttura muscolare liscia e ben definita, gli occhi dovrebbero essere rotondi o a forma di mandorla, e le orecchie dovrebbero essere di lunghezza da piccola a media, solitamente a metà, o sollevate nella postura. La coda dovrebbe essere leggermente spessa e affusolata verso la fine. Secondo i requisiti, il rivestimento dovrebbe essere lucido, liscio, corto e duro al tatto. Molti colori, modelli di colori e combinazioni di colori, sono accettabili per l'American Pit Bull Terrier, ad eccezione del Merle. I colori tipici di questa razza sono tinta unita e smoking. Le orecchie possono essere agganciate o meno. La coda non è ancorata. Tratti caratteriali distintivi. È difficile descrivere in modo inequivocabile il temperamento dei Pit Bull, poiché i tipi intra-razza sono molto diversi tra loro. Tuttavia, questo è un cane per allevatori esperti, preferibilmente con esperienza nell'addestramento. La natura dei Pit Bull Terrier è molto volitiva, si distinguono per l'aumento del gioco d'azzardo e il forte spirito combattivo. Sono inclini all'aggressione allo zoo, alla conservazione delle risorse. Il Pit Bull Terrier è adatto per essere tenuto in un appartamento di città, soggetto a un regolare sforzo mentale e fisico. Il Pit Bull può mostrare reazioni difensive e aggressività in situazioni che considera pericolose. Tuttavia, l'aggressività nei confronti degli umani in generale non è caratteristica di questa razza. Il Pit Bull è un cane molto orientato all'uomo, ha bisogno di molte attenzioni e comunicazione con il proprietario. Se non dedichi abbastanza tempo a un Pit Bull e non fornisci abbastanza esercizio fisico, può sviluppare sindromi d'ansia, iniziare a rovinare la proprietà, abbaiare e ululare mentre è solo. Uno dei suggerimenti per un proprietario responsabile di Pit Bull Terrier in particolare è Non lasciare mai il tuo Pit Bull Terrier da solo con un altro cane, o con qualsiasi animale. Anche se il 99,9% delle volte il tuo cane va d'accordo con altri animali, il Pit Bull è noto per essere aggressivo da zoo, ed è possibile che qualcosa possa andare storto. Non lasciarti ingannare dal fatto che il tuo Pit Bull non combatterà. Manutenzione e cura. Il Pit Bull Terrier americano farà bene con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Salute. Questa razza ha un'incidenza di displasia dell'anca superiore alla media. La selezione delle prestazioni, ha contribuito a eliminare questo e altri problemi come problemi alla rotula, disfunzione tiroidea e difetti cardiaci congeniti. Gli American Pit Bull Terrier di colore debole non avevano allergie cutanee più frequenti rispetto ad altre razze. Come razza, sono più suscettibili al parvovirus rispetto ad altri se non vaccinati, in particolare i cuccioli, quindi la vaccinazione è obbligatoria a partire dai 39 giorni di età e continuando ogni due settimane fino a quattro mesi. Poi di nuovo dopo otto mesi. Sono molto inclini alla rogna demodettica a causa dell'abbattimento delle prestazioni. Esistono due diversi tipi di rogna demodettica, ovvero la demodecosi localizzata e quella generalizzata. Sebbene non sia contagioso, a volte può essere difficile da trattare a causa dell'immunodeficienza in alcuni cuccioli. I sintomi localizzati sono solitamente piccole chiazze di perdita di capelli sulla testa e sulle gambe del cucciolo. Questo tipo di solito guarisce man mano che i cuccioli crescono e il loro sistema immunitario si rafforza. Il secondo tipo è la scabbia generalizzata.LA demodecosi è una forma più grave della malattia. I sintomi sono più gravi e comprendono la calvizie su tutto il corpo, e la pelle può anche essere squamosa e sanguinante. Generalmente sono ereditati a causa di geni dell'immunodeficienza, che vengono trasmessi da padre e madre ai loro cuccioli. Un semplice test di raschiamento della pelle, consentirà al veterinario di diagnosticare la scabbia demodex. Il trattamento più utilizzato per demodex, sono le iniezioni di ivermettina, o i farmaci orali. Poiché la rogna demodettica vive nei follicoli piliferi di un cane, l'ivermettina uccide questi acari alla fonte. Prezzo e come acquistare correttamente. Prima di acquistare un cucciolo di Pitbull, dovresti decidere se hai bisogno di un cucciolo con un pedigree o meno. Il pedigree è il garante della razza. Cioè, acquistando un cucciolo con un pedigree, puoi essere sicuro che il cane soddisterà tutti gli standard necessari sia esternamente che nel temperamento. Ma un pedigree veramente affidabile può essere dato solo da un asilo nido impegnato nell'allevamento di Pitbull Terrier. Pertanto, se hai bisogno di un cucciolo con un pedigree, dovresti acquistarlo solo nel canile. Nell'allevamento, gli allevatori, secondo tutte le regole, selezionano tali coppie di Pitbull Terrier in modo che la loro prole sia di alta qualità. La cosa principale è che monitorano con competenza lo sviluppo e la crescita dei cani. Il prezzo dei cuccioli di un animale domestico sarà significativamente più alto del prezzo di mercato, ma il proprietario può essere sicuro del suo animale domestico. L'acquisto di un Pitbull Terrier è un enorme rischio di ottenere un cane aggressivo incontrollabile di conseguenza. In genere, un cucciolo di razza costa circa 400 dollari. Un cucciolo di Pitbull senza documenti, può essere acquistato a un prezzo inferiore da 100 dollari a 300 dollari. Quando si acquista un cucciolo di Pitbull Terrier, si dovrebbe capire che il tipo di cane che crescerà dipende principalmente dal proprietario stesso. Un Pitbull diventerà educato e obbediente solo con un'istruzione di qualità. Il proprietario dovrà spendere molte energie per allevare un animale domestico. Il Pitbull Terrier è una razza canina con una lunga storia. Inizialmente, la razza è stata allevata per partecipare a combattimenti tra cani, ma nel tempo gli allevatori sono stati in grado di frenare il temperamento caldo e la disposizione ribelle dei cani. Oggi il Pitbull Terrier è diventato un buon compagno per il proprietario. Il Pitbull Terrier americano è famoso per la sua tenacia, allegria, cordialità, giocosità e amnegazione di fronte al proprietario. Linea di fondo. L'American Pitbull Terrier è una razza di cane da combattimento attualmente utilizzata come cane da servizio e da compagnia. Sono amici leali e leali, mostrano molto raramente aggressività anche nei confronti degli estranei, vanno d'accordo con i bambini. Tuttavia, i Pitbull hanno bisogno di un controllo costante e stretto quando camminano. Il loro temperamento combattivo e l'innata antipatia per gli altri cani si fanno sentire.